Nelle lezioni di questi giorni ci stiamo occupando degli Stati Uniti dopo la Prima Guerra Mondiale seguendo il percorso del decennio d'oro degli anni folli 1919-1929 con una piccola appendice per esaminare come gli Stati Uniti sono usciti dalla crisi durante la presidenza Roosevelt. In questa lezione invece ci occupiamo dell'Europa, dell'Asia, del Medio Oriente dopo la Prima Guerra Mondiale dividendo questo ampio percorso in due parti. In questa prima parte tratteremo della Francia, della Gran Bretagna, dell'Austria e della Germania dopo il 1918. Ci aiuteranno ovviamente delle slide e poi il riferimento è sempre alle pagine del libro di testo Esattamente, da pagina 127 a pagina 133. Cominciamo con occuparci dell'Europa dei vincitori, e cioè della Francia e del Regno Unito. La Francia aveva avuto 1.350.000 morti e più di un milione di mutilati ed invalidi. Sono numeri giganteschi che spiegano perché il Paese stenta ad affrontare le enormi spese per la ricostruzione calcolate ai tempi in 100 miliardi di franchi. L'idea dei governanti francesi e in particolare di Clemenceau, che vediamo qui durante un appassionato discorso all'Assemblea nazionale, è quello di scaricare ovviamente il grosso di questo peso sulla Germania attraverso una serie di indennizi da prevedere nei trattati di pace. La Francia resterebbe così, con una Germania fuori gioco ed una Russia ormai invasa e interessata dalla rivoluzione, resterebbe la maggiore potenza continentale. Chi gestisce politicamente questa scelta è il bloc nazional, cioè un gruppo di partiti politici con leader Georges Clemenceau che si caratterizza per un forte anticomunismo, come dicevamo prima per la volontà punitiva nei confronti della Germania, e per l'opposizione netta e costante ad ogni forma di revisione dei trattati che i tedeschi chiederanno più volte in questo periodo. Presentatisi alle elezioni politiche nel 1919, i leader del bloc nazional otterranno una strepitosa vittoria. Questo non toglie naturalmente che all'interno del paese ci sia un profondo malumore, anche perché alcune classi sociali vogliono poter godere anche dei vantaggi della vittoria, quindi rivendicazioni per la riduzione dell'orario di lavoro, per l'incremento dello stipendio, e scioperi si susseguono nel paese negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra. Il ruolo principale di agitatori e di rivendicatori è svolto da un lato dalla Confederazione Generale di Travaje, Confederazione Generale del Lavoro, e dall'altro dal partito socialista francese. Si ottengono diversi risultati, tanto la giornata di otto ore di lavoro, e la validità giuridica dei contratti di lavoro su tutto il territorio nazionale, quindi i contratti diventano vincolanti su tutto il territorio della Repubblica. Non va bene invece la protesta dei ferrovieri che puntano alla nazionalizzazione delle ferrovie che invece in Francia verrà attuata soltanto nel 1936 da un governo di sinistra. Quello che indebolisce i partiti e i sindacati di sinistra è la scissione che si attua nel partito socialista francese nel 1920, che vede la nascita a sinistra del partito socialista di un partito comunista, così come ci sarà sempre negli stessi anni la nascita anche di un sindacato comunista che prenderà il nome di Confederazione Generale di Travaggio Uniter. È strano questo aggettivo, unitaria, aggiunto proprio nel momento in cui l'unità in realtà la si sta rompendo. Dopo questo conflitto sociale che dura per i primi due o tre anni dopo la guerra, la ricostruzione e la riconversione produttiva del paese saranno più rapide e protagonista della riconversione produttiva saranno soprattutto le industrie automobilistiche come la Renault che stiamo vedendo in questa immagine pubblicitaria dell'inizio degli anni 20. Esaminiamo adesso un attimo la situazione della Gran Bretagna che ebbe anch'essa il suo enorme carico di morti, circa un milione di morti, 900 mila esattamente, con enormi spese per la guerra, 13 miliardi e mezzo di sterline, una cifra enorme che l'Inghilterra naturalmente sborsò ma che pesava in maniera pesantissima sulle finanze statali. Le elezioni del 1918 furono vinte anche in Inghilterra dai conservatori, anche se un buon successo, la triplicazione circa dei voti dall'8 al 21% lo ebbero anche i laburisti. In questi anni, come accade in Francia, del resto crescono moltissimo le iscrizioni ai sindacati, in Inghilterra prendono il nome di trade unions, che passano da 4 milioni a 8 milioni di iscritti. Gli anni immediatamente dopo la guerra sono anni di stabilità monetaria e anche di relativa crescita dei salari. Certo, non mancano le agitazioni, ma alla fine gli accordi di lavoro che vengono stipulati tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali sono nel complesso soddisfacenti. Questo quadro sostanzialmente positivo però comincia a cambiare dal 1921 perché il paese, anche per l'enorme prestito contratto con gli Stati Uniti e che deve restituire, ovviamente non solo per questo, come vedremo, entra in un periodo di difficoltà economiche. I due settori che accusano maggiormente il peso sono il settore minerario e il settore cotoniero. va ricordato il durissimo sciopero dei lavoratori della miniera nel 1921, uno sciopero purtroppo fallito, che apre un periodo di forte instabilità politica che durerà dal 1922 al 1924. Oltre alle singole rivendicazioni si tratta di un problema generale, della struttura produttiva dell'intero paese che ha un apparato produttivo ormai invecchiato, caratterizzato ancora dal carbone, mentre si fanno strada nuove forze energetiche come l'elettricità e quindi si tratta di riconvertire tutto l'apparato produttivo del paese a queste nuove forme di produzione, nelle quali l'elettricità, i veicoli, gli aeroplani la fanno da maggiore. E l'Inghilterra dopo una fase di sconcerto e di disorientamento, tra il 1925 e l'inizio del decennio successivo riesce a riorientare la propria produzione. Così come, ed è quello di cui ci occuperemo adesso, riesce anche, sempre l'Inghilterra, a dare una sistemazione al suo enorme impero, a cominciare dalla questione irlandese, che per gli inglesi era sempre una questione aperta. In Irlanda era nato un partito indipendentista, il Sinn Féin, che si era dotato anche di un esercito clandestino, l'Ira, che puntava ovviamente all'ottenimento della completa indipendenza dall'Inghilterra, che di fatto, anche se con una formula interlocutoria, ci sarà nel 1921, quando nascerà lo Stato libero di Irlanda, che comprende l'intera isola, escluse sei contè dell'Alster, che erano contè protestanti, mentre il resto del paese era a stragrande maggioranza cattolica. Il paese ottiene lo statuto di dominion, cioè non è più una colonia, ma di fatto gode di una semi-indipendenza, e questo anche in linea con ciò che Wilson aveva chiesto negli accordi di pace, cioè che tutti i paesi potessero autodeterminare il proprio futuro. Quello che vedete nell'immagine in questo momento è uno dei grandi leader dell'indipendenza dell'Irlanda, Michael Collins, che realizza appunto nel 1921 questo importante risultato, che apre poi la strada anche alla sistemazione del resto dell'impero britannico. L'Inghilterra non dimentica che 200.000 soldati avevano combattuto a fianco degli inglesi nella Prima Guerra Mondiale, ed erano sudafricani, erano canadesi, erano australiani, erano indiani, e quindi anche i rispettivi territori andavano gratificati per questa importantissima collaborazione. Sarà così che anche gli altri grandi territori, soggetti sotto forma di colonia fino a quel momento all'Inghilterra, otterranno lo statuto di dominion, saranno ammessi alla conferenza di pace e subito dopo faranno ingresso anche nella società delle nazioni. tra il 1926 e il 1931, tra l'altro, viene precisato ulteriormente dal punto di vista giuridico lo statuto di questi paesi del Commonwealth, che diventa in questo modo una comunità di nazioni autonome. L'Europa degli sconfitti la esaminiamo a cominciare dall'Austria, ormai un ex gigante che ha una testa enorme, Vienna, una grande capitale di un impero ormai defunto, e un corpo, la Repubblica d'Austria, che è diventato piccolissimo. Dopo una breve parentesi socialdemocratica, tra il 19 e il 20, la Repubblica sarà guidata dal socialdemocratico Renner, ci sarà poi un breve ministero di tecnici e successivamente, come vedete anche dall'immagine che scorre in questo momento sul video, il governo sarà guidato da un ecclesiastico. L'Austria è un paese cattolicissimo, Monsignor Seipel, che sarà appoggiato dal Partito Cristiano Sociale, che è un partito di ispirazione cattolica, di destra, col quale si creerà poi una spaccatura nel paese, tra una Vienna, la capitale, con un sindaco socialdemocratico, e quindi tra virgolette rossa, e la campagna che invece è bianca. Quindi centro e periferia viaggiano politicamente in modo profondamente diverso. A Vienna ci saranno anche esperimenti di edilizia popolare, come quelli che state vedendo in questo momento, sono case popolari create proprio durante gli anni di governo socialdemocratico di Vienna, che non riguarda l'intero paese, naturalmente. Sarà una diarchia questa tra socialdemocratici a Vienna e invece cattolici conservatori nella periferia, che si risolverà solo alla fine degli anni venti, quando il paese conoscerà un decisissimo spostamento a destra. L'altro grande sconfitto e l'altro che ha perso un impero e l'altro paese è la Germania, un paese che subisce gravissime perdite territoriali ed economiche e che va incontro ad una terribile crisi sociale. Il 9 novembre del 1918 il Kaiser Guglielmo II abdica, il governo verrà gestito da un socialdemocratico, Ebert, che proclama la Repubblica ed indice elezioni per l'Assemblea Costituente, cioè per dotare il paese di una nuova Costituzione. Purtroppo a sinistra, come era successo in Francia, del resto le forze della sinistra si spaccano in due tronconi. la SPD, il Partito Socialdemocratico, che è un partito d'ordine il quale non vuole grandi rivolgimenti sociali ed economici, è disposto a collaborare con l'apparato produttivo capitalistico del paese, e invece all'estrema sinistra un partito comunista, che in Germania prende il nome di Spartachista, guidato da due importanti leader, Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg, i quali tenteranno il 15 di gennaio, quattro giorni prima delle elezioni, per l'Assemblea Costituente, tenteranno un'insurrezione per imporre un governo analogo a quello che era riuscito ad imporsi in Russia con i bolscevichi. I corpi franchi, e cioè dei gruppi di ex militari ormai sbandati, dato che l'esercito tedesco era stato ridotto dalla pace a pochissimi uomini, su incarico dei socialdemocratici, arrestano e assassinano i capi del gruppo spartachista, e cioè Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht. E questo determinerà una rottura frontale tra le due grandi componenti della sinistra, che qui vedete rappresentata a sinistra in un manifesto propagandistico dei socialdemocratici, e a destra in un manifesto propagandistico degli spartachisti. Dopo questi episodi, il 19 di gennaio del 1915, si vota e da queste elezioni nascerà l'Assemblea Costituente che darà vita, poi darà la Costituzione alla Repubblica di Weimar. Le elezioni le vince la stragrande maggioranza del Partito Socialdemocratico, che si allea con il Partito Cattolico, il Centrum, e con i liberali progressisti. Si sceglie la sede di Weimar in Turincia e non Berlino per varare la nuova Costituzione, perché si vuole marcare una discontinuità con l'impero Guglielmino. La Costituzione che nasce il 14 settembre del 1929 è una Costituzione molto innovativa, perché intanto prevede il suffragio universale sia maschile che femminile, prevede una legge elettorale di tipo proporzionale che rappresenta tutte le componenti, prevede una notevole tutela per le minoranze e anche un'estensione dei diritti sociali. Potrà nascere così una Repubblica federale tedesca in cui gli organi saranno un Parlamento, un cancelliere che deve ottenere la fiducia del Parlamento. La Costituzione prevede però una strana figura di Presidente della Repubblica che è eletto direttamente dal popolo, che è anche capo supremo dell'esecutivo, oltre che delle forze armate, e che, sfruttando ciò che dice l'articolo 48 della Costituzione, in casi eccezionali, può sospendere le libertà politiche e legiferare senza il consenso del Parlamento per decreto. Purtroppo è un articolo che rappresenta una sorta di cavallo di Troia nella Costituzione di Weimar, che fu sicuramente imposto dalla destra al momento della discussione, e che, ahimè, sarà sfruttato abilmente da Hitler nel 1933, una volta che egli diventerà cancelliere del Paese, per sopprimere tutte le libertà costituzionali, in breve tempo, tutte le libertà costituzionali di cui godevano i cittadini nella neonata Repubblica di Weimar, che nasce debole sia per questo motivo, per questa strana alchimia istituzionale tra un Parlamento, un cancelliere ed un Presidente eletto dal popolo, sia perché il Paese nella sua globalità è diviso da un duro scontro di classe. Da un lato, alla destra, c'è una forte burocrazia, un esercito che, benché ridotto di numero, conta ancora moltissimo, e grandi proprietà di terrieri, soprattutto in Prussia, e alla sinistra c'è un proletariato industriale che cerca naturalmente di ottenere condizioni migliori di vita e di lavoro. Una volta eletta l'Assemblea Costituente, una volta parata la Costituzione, si possono celebrare le prime elezioni politiche per creare il nuovo Parlamento, stavolta la Costituzione c'è già, e purtroppo le elezioni del 1920 registrano un forte arretramento del Partito Socialdemocratico che perde un numero enorme di voti, circa il 40% dei suoi voti. Perché? Perché sia la Socialdemocrazia, sia la Repubblica di Weimar, nell'opinione pubblica tedesca sono vissute come colpevoli dell'accettazione e dell'umiliazione del Trattato di Versailles. La SPD da un lato e la Repubblica di Weimar hanno accettato il diktat dei vincitori e quindi vengono additati come coloro che hanno venduto il futuro della Germania ai vincitori. Sono emblema di sconfitta e di umiliazione. Tra l'altro la destra che si è riorganizzata molto velocemente può contare su una serie di forze piuttosto consistenti. Oltre ai Freikorps, i Corpi Franchi che sono ex militari che si offrono un po' come soldati di ventura per i lavori sporchi, c'è un'organizzazione che prende il nome di Elmo d'Acciaio che conta oltre 500.000 iscritti e c'è anche un partito nazionalsocialista per ora non particolarmente consistente che unisce a tutti i temi tradizionali della destra la patria l'onore la forza delle armi eccetera unisce anche un viscerale antisemitismo ed è un partito che poi dal 1921 vede la crescita della figura di questo ex caporale austriaco che si chiama Adolf Hitler che ha lasciato la Vienna multietnica e si è trasferito in Germania per fare fortuna politica. il 21 ed il 22 sono anni di terrorismo di destra con numeri impressionanti 350 assassini si contano tra il 21 e il 22 tra cui proprio nel 1922 l'assassinio del ministro degli esteri della Repubblica di Weimar Walter Rathenau tra l'altro due tentativi di colpo di Stato che cercano di abbattere la neonata Repubblica uno a Berlino promosso da un ex generale dell'esercito Walter Kapp e uno a Monaco quindi nel sud del paese promosso da Adolf Hitler entrambi i colpi di Stato falliscono Hitler sarà poi condannato ad un periodo di detenzione che trascorrerà una prigione pressoché dorata tra l'altro gli verrà condonata quasi tutta la condanna ma durante questo periodo di detenzione ne approfitterà per comporre la summa del suo pensiero politico il Mein Kampf la mia lotta che poi sarà pubblicato tra 1926 e 1927 purtroppo il paese nel corso del 1922 23 va incontro anche ad una grave crisi economica generata dall'inflazione un'inflazione scatenata sia dalla grande quantità di carta moneta che era stata creata per durante la guerra e anche per pagare in parte gli oneri derivanti dalla sconfitta la situazione peggiora drammaticamente nel gennaio del 1923 quando i tedeschi consegnano in ritardo o tardano a consegnare meglio delle merci che dovevano pagare alla Francia sotto forma di restituzione i francesi approfittano di questo ritardo convinti che i tedeschi ormai si vogliano chiamare fuori dal pagamento dei danni di guerra e occupano il bacino carbonifero ferro carbonifero della Rur che rappresentava come dire il polmone diciamo così dal quale l'industria tedesca traeva le materie prime per la sua grande produttività questo provocherà un immediato e terribile crollo del marco una gigantesca svalutazione che rovinerà migliaia e migliaia di famiglie e che metterà in ginocchio il paese il quale è davvero di nuovo tra 1923 e 1924 in una situazione potenzialmente rivoluzionaria perché la svalutazione è tale che la gente la mattina per poter fare la spesa si reca quando riesce ad entrare nelle banche e fa come questo signore ritira una carriolata di carta moneta che poi servirà per fare e cerca di spenderla il più velocemente possibile perché i prezzi crescono di ora in ora chi aiuterà la Germania ad uscire da questo pantano soprassanano soprattutto gli Stati Uniti i quali grazie ad un piano pensato da un finanziere che si chiamava Charles Davis un piano organizzato in tre punti fine dell'occupazione straniera della Ruhr per permettere ai tedeschi di far girare la loro macchina produttiva ingenti prestiti americani al governo tedesco naturalmente ad un tasso di interesse ragionevole dilazione in molti più anni di quelli previsti dai trattati di pace del pagamento delle riparazioni di guerra e la ricetta si rivela poi abbastanza in fretta riuscita nel senso che il paese rientra in un periodo di stabilità politica e anzi gli anni tra 1924 e 1929 sono anni di grande ripresa della produttività della cultura della circolazione delle idee col trattato di Locarno del 1925 la Germania accetta di riconoscere definitivamente le proprie frontiere con la Francia e con il Belgio quindi dichiara di non volere più rivendicare ampliamenti territoriali questo le permetterà di entrare nelle Nazioni Unite e negli anni 1928 1930 il paese sarà governato da una grossa coalizione come dicono i tedeschi c'è una coalizione di quasi tutti i partiti eccetto l'estrema destra e l'estrema sinistra ma ahimè purtroppo come sappiamo dagli Stati Uniti la crisi è dietro l'angolo perché il terribile anno 1929 intanto stiamo vedendo Charles Davis il finanziere che progetterà il piano finanziario di salvataggio dell'economia tedesca e stiamo vedendo anche alcune immagini degli anni 1924 1929 anni della formidabile ripresa tedesca e il film Metropolis di Fritz Lang e anche questo esperimento di edilizia popolare progettata dalla Bauhaus di Walter Gropius che sarà un gruppo di architetti che cercherà come dire di aprire una strada nuova all'architettura anche popolare purtroppo sono anni che finiranno drammaticamente con l'arrivo durante la crisi del nazismo e con la riconversione della Germania da intenti di pace a intenti di guerra all'architettura Grazie.